Lunedì pomeriggio il personale della squadra volante ha fermato per un controllo un'autovettura che viaggiava a soccorso Vittorio Emanuele II. Alla guida un cittadino rumeno, trentenne, in sua compagnia due cittadini italiani, un ventenne e un trentaduenne. Quest'ultimo si è qualificato quale commerciante di auto e ha dichiarato che si stava recando a fuoricittà insieme ai suoi due collaboratori per il ritiro di un mezzo. Dai controlli effettuati a suo carico sono emersi i precedenti di polizia per truffa. Il suo ultimo arresto per associazione delinquere finalizzata alla truffa risale allo scorso febbraio. Guida senza patente e possesso di proiettili. Gli agenti hanno controllato una borsa a lui in uso alla ricerca di armi, munizioni o strumenti di frazione. Hanno trovato invece una mazzetta composta da 37 banconote da 50 euro che da successivi accertamenti sono risultate contraffatte. Gli investigatori hanno continuato l'attività di indagine perquisendo il domicilio del trentaduenne, una villetta fuori Torino. All'interno del magazzino della villa gli agenti hanno trovato con grande sorpresa una zanna di elefante intarsiata, detenuta senza la documentazione prevista. L'uomo pertanto è stato arrestato per detenzione di banconote contraffatte e denunciato per violazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.